Si è appena concluso il discorso di Sant'Ambrogio, che l'Arcivescovo tradizionalmente indirizza la città, ma a tutti i territori e la comunità civili della Diocesi, in occasione della vigilia della festività di Sant'Ambrogio, che quest'anno sarebbe caduta la domenica, quindi è stato anticipato al venerdì. È una condizione un po' particolare. Gli anni scorsi ero nel chiostro di Sant'Ambrogio, quest'anno a casa, perché lo si è dovuto seguire a distanza, a causa delle norme anti-Covid, che hanno previsto una presenza molto ridotta di rappresentanze istituzionali nella Basilica. Un discorso di Sant'Ambrogio che ha un titolo molto particolare, tocca a noi, tutti insieme. Un appello, quello dell'Arcivescovo, a guardare con fiducia al futuro, una fiducia che deriva però dal fatto di camminare assieme e non tanto da altre soluzioni. Tra i passaggi fondamentali, visione, condivisione e decisione. Una visione che, secondo l'Arcivescovo, deve andare oltre ogni individualismo che ha dimostrato di essere una strategia fallimentare proprio in questi mesi, con un riconoscimento della necessità di un percorso comune, il tocca a noi tutti insieme, appunto, che deve porre al centro la cellula fondamentale della società, la famiglia, e deve puntare anche a una sorta di amicizia sociale tra i diversi popoli che abitano anche in una città come quella di Milano. E poi la condivisione, che parte dall'educazione e diventa anche il riconoscimento di una comunità plurale che deve essere promossa per poter davvero andare nell'ottica di quel secondo passaggio, la condivisione, a cui l'Arcivescovo faceva riferimento. Terzo, la decisione, e qui entra in campo la politica, entriamo in campo però tutti noi cittadini, perché tocca a noi, come ha più volte ribadito l'Arcivescovo, per un percorso che deve essere fatto di un'alleanza tra i diversi soggetti politici, ecclesiali, sociali, che possono responsabilmente costruire il futuro della città. E poi ha avuto alcune sottolineature politiche l'Arcivescovo, all'insegna di una responsabilità che la politica deve prendersi, che non può sostanziarsi in scorciatoie, scorciatoie che possono assumere il volto del decisionismo autoritario oppure del populismo. Non ci vuole tutto questo, ma ci vuole piuttosto una disponibilità a disegnare il futuro assieme. Anche gli appuntamenti amministrativi dei prossimi mesi, secondo l'Arcivescovo, devono servire e chiamare proprio a disegnare il futuro. E in conclusione c'è stato un elogio, un elogio di chi non si tira indietro di fronte alle difficoltà del presente, perché un futuro da disegnare appunto assieme può essere credibile solo se avviene in un'ottica di cammino comune e non certo di fuga in avanti o individualismo di qualsiasi tipo. Un discorso da riprendere, un discorso carico di significati e anche di appelli personali alle istituzioni, ma un po' a tutti i cittadini perché facciano la loro parte.